Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Unziker, è una delle celebrità più amate nel nostro paese. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. È una delle personalità più influenti d'Italia, popolare anche come influencer. Recentemente, Aurora è diventata madre insieme a Goffredo Cerza, formando una bellissima famiglia. La casa Ramazzotti è piena di gioia per l'arrivo del piccolo Cesare. Tuttavia, nelle ultime ore, si è verificato un contrasto con Belen Rodriguez, che sta attraversando un periodo particolare nella sua carriera, in quanto non condurrà più il programma Le Iene l'anno prossimo, come riferito dai media nazionali. Purtroppo, sembra che Aurora abbia involontariamente ferito Santiago, il figlio di Belen, con una frase su un social network. Aurora stava parlando con un suo funny, improvvisamente. Ha usato una similitudine non appropriata dicendo, sei più brutto di Santiago. Questo ha evidentemente infastidito Belen, soprattutto perché Santiago è stato precedentemente oggetto di insulti da parte di alcuni atera a causa delle sue caratteristiche fisiche, nonostante sia un bambino dolce e bellissimo. Belen ha risposto in modo sottile ma chiaro, dicendo, la gente vede, sente e parla. Purtroppo, però, vede male, sente poco e parla troppo. Anche se non ha menzionato esplicitamente né Santiago né Aurora, i fan sono convinti che la frecciatina fosse rivolta proprio alla figlia di Eros e Michelle. Sarà interessante vedere se ci saranno ulteriori reazioni nelle prossime ore. Nel frattempo, è emerso che Eros stesso si è scusato con Belen per le parole poco gentili usate da sua figlia. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre attivano a crescere.